Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale, quarto episodio di questo corso dedicato a Shotcut 21.01.29 nel quale vedremo un semplice effetto cinematografico per le nostre clip. Nella fattispecie ragazzi dopo aver visto un montaggio base con Shotcut, se vi siete persi il terzo episodio vi lascio la playlist completa qui del corso nelle schede e qui sotto in descrizione come sempre trovate il link per iscrivervi al mio canale Telegram dove oltre a pubblicare tutti i video che realizzo qui su YouTube, visto che le notifiche di YouTube non sempre arrivano mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi alcun video vi dicevo dal canale Telegram oltre appunto alle notizie e ai sondaggi potete entrare anche a far parte della community Telegram che si è creata da poco e devo dire è un bel gruppetto. Bene detto questo siamo su Shotcut vedremo appunto un effetto cinematografico, vi faccio vedere la clip normale senza alcun effetto, eccola ed ora la clip con l'effetto che andremo a realizzare insieme bene come avete visto la differenza è sostanziale, molto più bella, molto più enfatizzata proprio con un effetto cinema bene direi di iniziare con la realizzazione ovviamente del progetto chiamiamolo con grande fantasia effetto cinematografico con Shotcut ok se non sapete come gestire un progetto c'è il video dedicato nella playlist se non erro è il secondo, nel primo vi faccio vedere l'interfaccia di Shotcut quindi saprete grazie a quel video cosa vuol dire la moneta video e i vari parametri facciamo avvia grazie al mio profilo youtube andiamo su apri file e dal desktop andiamo a recuperare quello che ci serve per la realizzazione di questo video ovvero la musica di sottofondo, l'effetto luce lente che ho scaricato da un canale youtube che lo metteva a disposizione gratuitamente ovviamente questi filtri ragazzi li trovate cercando in inglese state attenti a eventuali copyright delle clip per il resto vi consiglio Pexels non so se l'ho pronunciato bene ma chi se ne frega ve lo lascio qui sotto in descrizione dove potete reperire clip video e immagini gratuite da poter utilizzare nei vostri progetti la clip in questione l'avete già vista è questa, la trascino nella mia timeline dura veramente pochissimo, 15 secondi praticamente però serve allo scopo allora iniziamo subito a lavorare su questa clip quindi ci spostiamo su filtri vi ricordo che potete attivarlo da visualizza filtri oppure ctrl più 6 da tastiera diamo un click qui per aggiungere un filtro sia esso video che audio ci spostiamo sulla categoria video e andiamo a cercare il primo ovvero andremo a fare una color correction di questo video quindi ci spostiamo in basso fino a che non troviamo correzione colore allora andiamo a ricercare qui scriviamo colore ok regolazione colore non mi ricordo mai come si chiama eccolo qua grazie a questo filtro aspettate che ecco possiamo regolare le ombre i mezzi toni e le alte luci per esempio io nella clip che avete visto all'inizio ho regolato le ombre in questo modo spostandomi diciamo un poco più sul blu stessa cosa ho fatto per i mezzi toni come vedete la clip assume questo aspetto un pochettino più tendente al blu e poi ho regolato le alte luci in questo modo spostandomi leggermente ovviamente questo è tutto soggettivo regolate voi in base alla vostra clip e all'effetto che volete dare come secondo filtro andiamo sempre qui sul più dobbiamo andare a recuperare quello che ci consente di regolare la dimensione del nostro schermo quindi sostanzialmente andare a operare un ritaglio il filtro in questione si chiama ritaglio sorgente potete sempre filtrare da qui cercandolo ritaglio sorgente eccolo qua questi filtri ogni tanto cambiano in base alla versione di Shotcut per questo specifico sempre che il corso si basa sulla versione 21.01.29 bene per ottenere ovviamente le due bande effetto cinema basterà dare su alto per esempio andiamo a dare 125 e su basso stessa cosa 125 qui potete regolarvi voi di conseguenza per esempio lo andiamo a enfatizzare un attimino di più quindi 140 ok e abbiamo ottenuto questo effetto cinema andiamo di nuovo sui filtri andiamo a regolare quello che è la tonalità quindi andiamo a scrivere qui tona ecco qua tonalità luminosità e saturazione lo andiamo ad aggiungere e per esempio io voglio abbassare un attimino la saturazione del mio video la mettiamo a 75 ripeto queste sono piccole regolazioni che poi nell'insieme vi daranno l'effetto finale già che siamo qui aggiungiamo la dissolvenza in entrata la troviamo sempre nei filtri video eccola qua dissolvenza in ingresso facciamo un click andiamo a regolarla con uno scarto di 10 secondi anzi facciamo 15 ok e andiamo ad aggiungere anche una dissolvenza in uscita eccola qua la regoliamo alla stessa maniera la posso regolare sia dal più che dal meno come vedete o gestirla direttamente dalla mia timeline attraverso questo cerchietto vado ad aumentare o ridurla limita il tempo rilascio il tasto sinistro e la metto a 15 secondi posso anche decidere se regolare l'opacità invece di dissolvere con il nero ve lo faccio vedere lo vado a impostare sulla dissolvenza in ingresso ci spostiamo all'inizio della clip in questo modo come vedete non si vede perché materialmente questo ve lo consiglio se dovete passare da una clip all'altra in modo tale che regolerà l'opacità della vostra clip dandovi l'effetto da trasparente all'altra clip quindi lasciamola disattivata per entrambe le transizioni questo ci tengo a specificarlo perché ovviamente essendo che il corso è dedicato a utenti base molti di voi non sanno come funzionano queste dinamiche vi faccio vedere la dissolvenza normale così dal nero passa al nostro video bene per questa clip va bene così non dobbiamo fare altre modifiche aggiungiamo un'altra traccia video per farlo ctrl più i da tastiera o dal menu questo ad hamburger con queste lineette in orizzontale fate un click fate traccia operazioni e aggiungete una traccia video in questo modo ci regoliamo la nostra timeline in modo tale che la vedete bene torniamo sull'elenco di riproduzione e andiamo ad aggiungere quello che è l'effetto chiave di questo video ovvero il nostro effetto luce eccolo qua questo è l'effetto luce ve lo faccio vedere senza la clip ok eccolo qua ricorda molto quello dei film sostanzialmente ok per comodità lo andiamo a ritagliare quindi facciamo un click qui che ci porterà al punto successivo quindi alla fine della prima clip se lo clicchiamo una seconda volta ci porta alla fine dell'altra clip quindi fate un singolo click in modo tale che ci posizioniamo precisi alla fine del nostro filmato chiave quindi la nostra clip che dobbiamo rendere con l'effetto cinema facciamo un click qui per suddividere la clip OS da tastiera in modo tale che eseguiamo un taglio selezioniamo qui l'altra clip che non ci serve facciamo canch da tastiera come vedete ora le clip sono perfettamente uguali una volta fatto questo selezioniamo la clip effetto luce andiamo sui nostri filtri facciamo un click qui e dobbiamo cercare il filtro opacità per comodità lo vado a scrivere qui eccolo qua opacità perfetto e andiamo a regolare la nostra opacità per esempio su 27 in modo tale che andremo a vedere ovviamente se Claudio riattiva la clip sottostante vi dicevo andremo a vedere le due clip sovrapposte sostanzialmente però c'è un piccolo problemino c'è sempre qualcosa da regolare ovvero questa clip della lente si vede per tutto il formato noi invece la dobbiamo regolare solo praticamente nel video escludendo le bande nere per farlo dobbiamo aggiungere un effetto forse ho dato troppa opacità ok la mettiamo a 33 dobbiamo dare un altro filtro che è quello dimensione e posizione quindi facciamo un click qui andiamola a cercare nella nostra lista eccolo qua dimensione posizione e rotazione diamo un click come vedete mi spunta questa gabbia di controllo da qui andate a mettere distorci qui lasciate centro e medio e regolate manualmente grazie a questi angoli di controllo la vostra clip in questo modo 1 e 1 2 in modo tale che l'effetto sia visibile solo nel riquadro dove abbiamo la nostra clip volendo potete anche allargarlo un po' per farlo uscire dal nostro formato dico questo a vostra discrezione ok andiamo a vedere l'effetto sperando che non scoppi il mio computer ok andiamo a vedere l'effettino ok come vedete c'è il raggio che si vede molto carino ok e abbiamo l'effetto diamo anche una dissolvenza in entrata e in uscita alla clip effetto luce quindi la selezioniamo con un click torniamo sui nostri filtri facciamo più e stessa cosa di poco fa dissolvenza video in ingresso eccolo qua diamo anche qui li avevo dato 15 secondi quindi andiamo a mettere anche qui 15 secondi o regolatevi voi di conseguenza magari potete dare anche 10 piuttosto che 15 ok e diamo anche la dissolvenza in uscita ok anche qui diamo 10 secondi a questo punto per essere precisi e coerenti con le due dissolvenze e ora andiamo ad aggiungere la nostra base musicale quindi facciamo ctrl più da tastiera oppure dal classico menu ad hamburger traccia operazioni aggiungi traccia audio ci regoliamo nuovamente la timeline in modo tale da vedere il tutto torniamo nell'elenco di riproduzione e trasciniamo il nostro sottofondo musicale anche qui lo mettiamo all'inizio della nostra clip torniamo nel magico tasto che ci consente di andare al punto successivo così andiamo a eseguire nuovamente un taglio con S da tastiera o da qui da suddividi e andiamo a cancellare quello che non ci serve della nostra clip musicale questo l'ho scaricato come dicevo dalla raccolta di youtube nella categoria musica cinematografica così dico ha un senso andiamo a regolare la dissolvenza della traccia audio quindi la selezioniamo con un click andiamo sui filtri poi ci spostiamo su aggiungi un filtro stavolta scheda audio come categoria e mettiamo dissolvenza audio in ingresso gli diamo sempre i classici 10 secondi così andiamo a seguire la prima dissolvenza in questo caso dell'effetto luce volendo possiamo dare 15 così seguiamo l'altra e aggiungiamo anche la dissolvenza in uscita eccola qua e gli diamo sempre 15 secondi vi ricordo sempre che dai angoli appunto attivi di destra e sinistra potete regolare la dissolvenza manualmente tenete premuto il tasto sinistro e come vedete mi dà la durata complessiva la posso regolare manualmente così però vi consiglio sempre di gestirla dai filtri perché è molto più precisa come regolazione e questo è l'effetto finale che ve lo faccio rivedere eccolo qua bene ragazzi questo era l'effetto cinematografico con Shotcut per qualsiasi dubbio io vi aspetto come sempre nei commenti se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like e magari a condividerlo con i vostri amici che stanno iniziando a utilizzare Shotcut vi ricordo anche il sito ufficiale di Shotcut per scaricare il programma ve lo metto qui nella descrizione del video e lo aggiungo anche negli altri e nulla ragazzi noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao musica musica Grazie per la visione!